Capitolo 2. Il viaggio al Mercato Nina e Alicia escono dall'albergo e cercano un taxi per andare al Mercato Antiglia. Nina Non vado nuss in taxi. E tu? Alicia Nina arriva uno. Alza la mano, Nina. Salve, signore. Tessata. Buongiorno, ragazzi. Dove volete andare? Alicia Al Mercato Antiglia, a Matteo Melvio? È sul Lungotevera, no? Sì. Va bene. Salite. Andate a comprare oggetto di Antiquariato. Nina E probabilmente sono una storica di latte. Mi piace molto l'Antiquiato. Su serio? Roma è una città piena di latte. Anche tu sei uno storico di latte. Non io sono una scrittrice. Bello! Scusa scrive? Scrivo libri di misterio. Davvero! Interessante! Anche nel Mercato Antiglia ci sono di misterio. Davvero? Certo! Anche nel Mercato Antiglia ci sono di tantissimea roba robata. Roba robata. Certo! Grazie.